Il Partito Democratico vince ma non stravince a Salerno e viene sonoramente sconfitto in provincia. L'analisi del voto non accontenta il principale partito della coalizione di centro-sinistra. Grillo, secondo partito in città, va nella direzione del dato nazionale, meglio Grillo, secondo partito in città, che il PDL. Mi pare di capire che non stia andando molto bene, però vediamo un po' in Campania e in questo collegio che succede. Il fenomeno Grillo se lo aspettava di questa portata qualcosa in più, qualcosa in meno? Io me lo aspettavo, non mi fidavo dei sondaggi, non credo più nei sondaggi da tanti anni, non credo che il voto a Grillo sia un segnale ampiamente attendibile. Mi pare che un italiano su quattro abbia votato per Grillo, questo ci dicono i primi risultati attendibili. Io mi aspettavo un risultato di questo tipo, devo dire la verità.